Ivan D'Agubi è un punto che fa a classifica molto importante, è rimasto un po' di rammarico per non aver sfruttato qualche occasione per vincere? Sicuramente, però la partita si è messa subito in un modo che non volevamo perché prende le golle subito nei minuti iniziali e la partita si mette in un altro modo. Però siamo stati bravi comunque a rimontare, potevamo fare sicuramente meglio per sfruttare come dicevi tu questo momento che magari potevi, in questo momento del campionato comunque i punti valgono doppio, poi in un scontro diretto, però è un punto comunque in un campo difficile, una squadra che comunque sta lottando come noi per la salvezza quindi non era facile, vediamo il bicchiere mezzo pieno. E' arrivato un punto anche perché nel secondo tempo sei stato fondamentale in alcune chiusure? Quello fa parte del mio lavoro, nel senso che ognuno di noi deve dare il massimo, poi si sa, a volte ci riesce e a volte no, però ripeto, dobbiamo cercare ultimamente come stiamo facendo da qui al proseguo di fare le partite perfette, cercare di sbagliare poco, e non regalare nulla all'avversario per portare i punti a casa che per noi è la nostra vita. Sicuramente Renato verrà qua a fare la sua partita, però per noi è troppo importante, domenica è, non dico fondamentale, ma dobbiamo fare i tre punti a tutti i costi, quindi dobbiamo cercare di fare, come dicevo prima, la partita perfetta per portare la posta a casa. Tornare alla difesa a tre dopo un periodo di difesa a quattro è stata col senno di poi la mossa decisiva per cambiare qualcosa nel reparto difensivo? Se vediamo i risultati adesso diciamo di sì, però a volte non sono nemmeno i moduli o tante cose, purtroppo ci sono tante dinamiche che nel calcio ti portano a fare determinate cose, quindi però in questo momento magari sì, però ripeto, non è che solo la difesa che magari è tutta la squadra, quindi se uno lavora bene, riesce a far bene come squadra, è brava tutta la squadra, non solo la difesa, oppure come adesso magari facciamo più fatica a fare gol, quindi dobbiamo essere più bravi ad accompagnare, mettere in migliori condizioni gli attaccanti e far bene.